Ma com'è cambiata la comunicazione vaticana? Allora, io adesso sono fuori e quindi ho difficoltà di dare un giudizio. Diciamo che, soprattutto con Navarro, l'informazione vaticana era una notizia quasi centrale nel mondo. Dicevo allora che la sala stampa era un avamposto mondiale della comunicazione, vaticana ovviamente, però era considerato un avamposto mondiale. Io mi ricordo che venivano sempre più persone, giornalisti, ad accreditarsi. Forse anche con Papa Benedetto era ancora centrale, perché il povero Papa Benedetto, lei sa che è stato accusato sempre, non ha avuto una stampa amica, friendly. Era centrale nella negatività dei giudizi. Esatto, però era centrale. Lui ha sofferto molto su questo e non lo meritava perché le grandi riforme le ha cominciate lui. Certo. Adesso con Papa Francesco, certo, ancora è fondamentale la comunicazione vaticana, è centrale ancora, però sa fare tutto lui. Si butta, si butta, si tuffa e sa fare il suo lavoro molto bene, dico la verità. Anche se anche lui ha molti critici. Sì, certo, questo però credo sia fatale, no? Sei sotto assolutamente un occhio che qualche volta è benevolo e più delle volte anzi è manevolo.